Simone Danna sa come si fa, sa come si arriva in fondo a una competizione, sa come si vince, anche e soprattutto in Serie D. L'anno scorso ha conquistato il Girone H con la maglia del Brindisi, quest'anno punta alla conquista dei play-off e di una chance di ripescaggio con il Nardò. Sua la rete, la decima personale in 27 presenze stagionali con il Toro, che ha assicurato la vittoria sulla Fidelisandri in semifinale. Merito di una combinazione, provata e riprovata in allenamento e in partita con Luca Guadalupi. Scambio richiesto, ricevuto e suolata alle spalle di Baglietti. Ci proviamo spesso anche nell'allenamento, abbiamo una buona affinità e come ha detto lei sicuramente gli offrirò una bella cena. Il finale di stagione è stato anche quello del feeling ritrovato con il gol per Danna. Sono cinque nelle ultime otto partite per il 33enne transitato in Puglia, oltre che da Brindisi, anche da Bitonto, Altamura, Monopoli e Gravena, prima di Nardò. Dalla ventottesima giornata di campionato ad oggi ha colpito le porte di Angri, Fasano, Rotonda Palmese e appunto Fidelisandria. Questa vittoria non la volevamo e fortunatamente l'abbiamo raggiunta. È un obiettivo importante, adesso ci giocheremo tutti nella finale. È stata una stagione positiva a livello di numeri, dei numeri importanti, però a me la cosa che mi interessa di più è la totale squadra, il totale gruppo, il Nardò calcio, ecco. Questa è la cosa che mi interessa di più. Adesso andremo a giocarci questa finale e speriamo di poterla vincere. Domenica al Tursi di Martini e il Nardò non avrà tante alternative per bissare la vittoria dei play-off già vissuta nella scorsa stagione, senza usufruire poi del ripescaggio a causa dell'assenza di uno stadio idoneo. Quest'anno invece a norma per la C. La squadra di Costantino, arrivata al terzo posto alle spalle degli Itriani, sarà costretta a vincere entro i 90 o 120 minuti a causa del peggior piazzamento in regular season. Sugli spalti sarà festa tra due piazze gemellate. L'invito di Danna è proprio per la tifoseria del Nardò. Abbiamo un pubblico importante dietro, sono contento che loro ci sostengano e spero che possono venire tantissimi per la finale.